direttamente dalla storica sala dei monopoli di stato di piazza mastai in roma questa è l'estrazione di super enalotto buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione del super enalotto oggi sabato primo aprile il jackpot ha raggiunto la cifra di 10 milioni 246 mila 183 euro 90 sfere numerate sono state caricate nella prima urna e con l'autorizzazione della commissione di controllo chiamora al via l'estrazione del concorso numero 39 inizia il mescolamento automatico delle sfere stiamo per scoprire se i numeri vincenti più il numero jolly tenete strette le vostre ricevute è in arrivo il primo numero primo numero estratto è il numero 47 siamo al secondo numero con super enalotto si mette già a vincere secondo numero estratto è il numero 73 terzo numero sta arrivando terzo numero estratto è il numero 75 pronti per il quarto numero? quarto numero estratto è il numero 22 e adesso scopriamo il quinto numero che poi porta alle grandi vincite quinto numero estratto è il numero 5 è il momento di incrociare le dita stiamo a precompletare la sestina vincente sesto numero estratto è il numero 36 dopo i sei numeri che assegnano il jackpot passiamo ora all'estrazione del numero jolly vi ricordo che indovinando questo numero insieme a 5 i numeri della sestina vincente potrete realizzare la grande vincita del 5 più 1 numero giolly di questa sera è il numero 51 controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione e il numero jolly 47 73 75 22 5 36 il numero jolly è il numero 51 e ora passiamo al numero superstar superstar è il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente al momento della giocata la sua estrazione avviene grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le sfere da 1 a 90 procediamo con l'ultima estrazione di questa sera vi ricordo che indovinando il numero superstar si vince sempre superstar modifica le vincite superano all'8 fino a 100 volte premia anche lo 0 e l'1 le sfere stanno ruotando nell'urna pronti? numero superstar di questa sera è il numero 78 ricontrolliamo insieme tutti i numeri estratti del concorso numero 39 con la sestina vincente in ordine crescente 5 22 36 47 73 75 numero jolly 51 superstar 78 l'estrazione di oggi sabato prima aprile termina qui diamo il tempo di verificare tutte le giocate ci rivediamo fra poco per scoprire se il jackpot di oltre 10 milioni 200 mila euro è stato centrato da qualche infortunato giocatore ben ritrovati poco fa abbiamo estratto i numeri vincenti del concorso numero 39 siete pronti a scoprire le vincite di questa sera? questa estrazione del supernalotto assegna 596 mila 805 vincite vi ricordo che il jackpot in palio è di oltre 10 milioni 200 mila euro sarà stato centrato il 6 questa sera 6 di supernalotto non è stato realizzato e il jackpot cresce ancora per arrivare a 11 milioni 300 mila euro vediamo adesso nel dettaglio tutte le vincite e le relative quote nessun 6 nessun 5 più 1 i 5 sono 9 e vincono 30.309 euro ciascuno i 4 sono 879 e vincono 471 euro ciascuno i 3 sono 33.448 e vincono 29 euro ciascuno i 2 sono 512.792 e vincono 5 euro ciascuno ed in questo concorso sono state assegnate bene 305.892 vincite immediate winbox scopriamo adesso insieme vincite e premi superstar nessun 5 stella i 4 stella sono 5 e vincono 47.135 euro ciascuno i 3 stella sono 166 e vincono 2.908 euro ciascuno 100 euro vanno 2.352 2 stella 10 euro e 14.998 1 stella e 5 euro e 32.156 0 stella inoltre 159 vincite da 50 euro ciascuna e 23.980 vincite da 3 euro ciascuna sono assegnate le combinazioni non vincenti vi ricordiamo che è possibile verificare l'esito delle proprie giocate in modo facile e veloce anche con l'app Superanalotto l'app è disponibile per tutti i dispositivi per maggiori informazioni consultate il sito superanalotto.it vi ringrazio per essere stati con noi Superanalotto vi dà appuntamento a martedì 4 aprile e giocheremo per un jackpot di 11.300.000 euro arrivederci superanalotto vi dà appuntamento a martedì 4 aprile a martedì 4 aprile